Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video raga Oggi in questo nuovo video andremo a shoppare l'offerta Questa qua è arrivata a novembre e poi ci andremo a shoppare il Brawl Pass E niente, prima di tutto vi voglio dire che ho sbloccato Rosa a Brawl Win Ho vinto tutte le partite, tutti i 12 E niente, guardate tutto qua, lo faccio anche vedere, guardate vittoria, 12 E' un test video superato, ok, nemmeno ci lascio a shoppare No, ok Il regalo ci danno anche quattro mesche casse, niente male Ok Ci stiamo chissando, praticamente riuscite Ok, 170 gem, 4 mesche casse, che apriamo Uno skip luminoso Mortis, gadget di Mortis Ok Ora, un'altra mega cassa di un sistema reddition Ok, vai Tre skip, ma sempre tre skip Uno skip luminoso Allora, clicchiamo Ah Ah Ok Un'altra mega cassa Ok, apriamola Tre skip Non lo so Un altro skip luminoso Oh Mamma fa un bagno Vabbè Ora l'ultimo l'apro io Ok, ora l'apriamo Tre, due, uno Vai Tre skip Ok Uno skip luminoso Ok, ok, ok Vai Ma Ma Vai a fare un bagno C'è un po' lino Ma quante monete abbiamo fatte Raga Allora, possiamo anche sapersi Al bra Ma non voglio Sprecare per queste cose What the Fia Plopi Non voglio più Ragazzi, ovviamente Allora Pronti? Tre Due Uno Vai Sciapiamo il bra Pass Sbloccato Gigi Ah, uno che se no Ci regalano Ah, ci hanno dato una Aspetta Gigi Oh yeah, raga Ora andiamoci Prendi tutto Mamma Mamma, raga, raga Mamma mia, raga Quanto sto risicando Allora E Vabbè Comunque, raga Vabbè dai Andiamoci a fare tutto l'unboxing Posso star Ok Posso star preso Allora Vediamo cosa c'è Ah, le monetine Le prendiamo Monetine Vai Non so cosa ho trovato Ma comunque Vediamo Cos'ho trovato Oh mio dio Raga Quante cose ho trovato Mamma Oddio Che cos'è Che cos'è Ah, questo cos'è Io a me piace molto Il genio Allora Mi piace Ok Allora Cos'è Ok 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 Qua c'è star Preso Preso Ah, vero Dobbiamo Vedere cosa abbiamo Ho capito Che dove c'è Oh, mi sta Arrabbiamo Eh Mamma mia Necro Vabbè Saluto anche Superman 5 Ciao Superman 5 Aspettate Raga Ma posso Aspettate Finalmente Raga Posso Sbloccarlo Oggi Wow Sto Registrando Subiet Saluto Saluta Aspettate Ok Allora Raga Ora dobbiamo Aprire Queste cose Ok Monete Gigi Ok Colette Finalmente Raga 3 2 1 Vai Tadam Ragazzu Li abbiamo Trovato Colette Merita Veramente Una screenshot Fate la screenshot Per favore Gigi Colette Ok No Perché mi sono Aperto Sto Casse Ma va Sempre Aspettate Sto Sto Recando Sto Facendo Un po' Sing Del Pass Ok Ok raga Allora 200 Monete Questo Nicolette Gigi Ok 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 E niente Raga Iscriviti al canale Lasciate Lasciatemi Mi piace Vediamo Vediamo Se abbiamo Trovato Raga Wow Abbiamo Trovato Questa Cosa Che bello Ok Vediamo Se abbiamo Trovato Poi Allora Oh Bello Vabbè Non mi interessa Ok raga Andiamoci A maxare Colette Non ci credo Raga Ok Ci vediamo Dopo E niente Raga Andiamoci A portare Oddio Raga GG Gigi No Vabbè Ah Livello 7 Ok Allora Raga Potenziali Livello 9 Qualcuno Eeeh Raga Non so Chi potenzia Raga Vabbè Pam Che mi piace Un botto Pam E niente Raga Iscriviti al canale Lasciatemi Mi piace Con gli altri video E Ciao